eccoci qua ragazzi bentornati sul canale di batman il cavaliere oscuro di twitch proprio così ragazzi siamo tornati qui sul nostro canale twitch per continuare il gameplay di gotham knight ispezioniamo subito il drone di cane avviare l'assaltare industria cane si accetto pronti ad assaltare la corte dei gufi ci siamo siete in posizione la polizia è fuori ogni piano delle industrie cane è protetto da una blindatura brevettata dovrà scalare l'edificio non sarà un problema la polizia è fuori ogni volta che si tratta da un'esercizio la polizia è fuori ogni volta che si tratta da un'esercizio Grazie a tutti. 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 Eccoci qua, su. Stato alle segnalazioni l'attività della Lega delle Ombre è in aumento in tutta la città. Speriamo che se ne vadano quando fermeremo Gekko, come diceva Kaga. I droni si stanno scaricando. Sbrigati a raggiungere il tetto. Bene, sei sull'attività. Le guardie di sorveglianza saranno poste, fai attenzione. Jakob Kane è uno dei magnati militari più importanti del mondo. Non ci saranno guardie normali. Prendi il comando di ricarica per abbassare l'arma. Un attimo, un attimo, arrivo, arrivo. Pensa essere tanto paranoico da installare armi antiaeree sul tetto. Kane protegge l'ingresso del bunker con la stessa corazza usata all'esterno. Solo la sua tecnologia può attraversarla. Le serve un laser. Kane ne tiene uno nel deposito munizioni. M&M è una zona che si tratta. Alla parte, sicuro, ma piace una scatola in giro. Sdremmo, io dobbiamo sred получить un lampro. come ritarrerà la sto premendo marino quadrilegge marino ecceci la parola è adeguato non sognare quello che è eccolo sembra pesante e decisamente sperimentale sembra uscito dagli anni 80 sono un trapano laser numero di serie kd 847 prototipo parla questo è un prototipo monouso non devo mancare devo prendere il trapano ora che hai laser le serve un modo per muoversi nel piano prendi un badge potremo sovrascrivere la tua firma biometrica attenzione abbiamo ospiti che tempismo dei droni non identificati ci stanno attaccando ricarica e non farti domanda non dovrei controllare fai fermo lì ecco il badge bene proprio quello che cercavo bisogna riconfigurare il badge con i tuoi dati biometrici cerca la postazione di sorveglianza e acquisiamo lì qua ecco la postazione è qua la postazione è vera di qua campanile il badge non va mi hai sentito o no riconfigura il badge con i tuoi dati biometrici cerca la postazione di sorveglianza sbrigati qui la postazione era qui no qua non mi fa entrare se fa su di qua ecco la tombola ecco la bene ora dovrei avere libero accesso a tutto il piano è normale tutta questa sicurezza qui fuori anche peggio ah guarda guarda ah tiro le guardie sotto bravo ora tu vieni con me ehm ehh, quanti siete? io non fugo da quelli come te Che inusa una rete di telecamere con sensori di movimento Cerchi di non farsi individuare Se ti beccano dovrai ripristinare le telecamere dalla console di sorveglianza Adesso come faccio Oh cazzo Oh cazzo Eh cazzo non lo sia conflittato Starghi bastardi Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Vaffanculo Ecco l'ascensore Dove c'è l'enicoma pareti Tanto ho visto un forzierino qui Capiamolo Eh la scienza privata è lì dove c'è Quelle zone qua Esatto è qua Cazzo fa che c'è il cellulare di che Allora aspetta 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 Caro Kate Sarà dura a sentire alcune di queste cose Un sudoku Variante ufficio del riccone bastardo Eh già Allora 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 No 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 Eh sì Uguale no Uguale no 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 Mi ce l'afila però Madonna Mi ce l'afila Mi ce l'afila Allora Allora Eh cazzo Tua madre non accettava che io non potessi dirle certe cose Hmm È più difficile di quanto pensassi Ricordi che deve esserci un simbolo per casella Lo so, lo so Stai zitto Qua mi pensai L'afila no Tipo no Questo è una petto uguale Ma porca Ah 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 Questo l'ha cambiato L'uno dell'altra E qui Ah no Lascia così Lascia così Vabbè che c'è Adesso Guf No No Ok Ok Sì Il Guf Il Gufo Il Gufo Va bene Veddi qua Vediamo un pò Il Gufo C'è qui Quello lì trombola è il re del sudore questa era facile antico reloce del anno lezioni gli almi da poco doppia katana o un cannone addirittura adesso va meglio o che c'è chissà che cosa nasconde che in cui un forzerino bene apriamolo da gli oggetti qua che c'è una pergamena ecco l'ascensore il mappa mondo è collegato al dipinto in teoria non sarebbe necessario diceva arrivato è pregato avrà visto troppi film di spionaggio e l'ascensore adesso come l'ha blindato si può perforare solo con la tecnologia di kane eh davvero uso il trapano ma bene usa il trapano laser ok laser fai il tuo dovere sono un trapano laser numero di serie kt 847 prototipo questo lo so ma come faccio ad attivarti non si può regolare il volume il negativo vai già vai in arrivo dannazione tardi non ti lascerò non ti lascerò muoviti là se che cazzo non ti lascerò non ti ascritto guardi guai vai a nanna, vai a nanna non deve scappare e quanti siete maggi di nell'ascensore l'ultima volta. Appena entri, raggiuntilo alla scelta. I nostri piano finiscono qui. Preparati a improvvisare. Abbiamo informazioni su che cosa aspettarsi. L'unica cosa certa è che l'ascensore scende in un bunker sotto l'edificio. L'ascensore scende. Grazie. Cain potrebbe aver costruito qualsiasi cosa. L'ascensore scende. Il mio rinforzo è i settori dal 5 al 7. Scappa! Il mio vigilante avvistato! Il battaglione del destino. Non cerca di scappare! C'è un'intera sala operativa. Uguale a quella del pentagono. Cain deve causare un sacco di guai se gli serve tutto questo. Certo che gli sgherri di Cain sanno combattere. Come ne a destra? Come gli artigli, forse. Magari i migliori vengono promossi. Ok. Ah, cos'è sta? È a terra! 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 Ti ho sentito urlare! È a terra! 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 qualcuno è a terra! è a terra! è a terra! è a terra! qualcuno è a terra! 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 adesso adesso! è a terra! 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 ci siamo! è a terra! è a terra! buco! la porta! è a terra! 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 gotham! è a terra! tutto tu! è a terra! 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 ciao! è a terra! è a terra! è a terra! è a terra! ! è a terra! ! ci sono! ! mettiamo! ! è a terra! ! esce! ! sono tre! ! 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 i miei colleghi cosa hai fatto? ! 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 Vaffa, vaffa, vaffa Ho setacciato dappertutto Non c'è alcuna traccia d'Italia La lega è ancora a Gotham Lei è qui Dobbiamo solo trovarla Tornati ninja Velo gioco a videojoping Davvero strano? Strano come degli artigli che tornano in vita O strano come Perché perdo sempre a questo gioco? Strano come stavo seguendo un reindirizzamento Ma poi c'erano fluttuazioni e ora Credo di aver trovato Talia Che cosa seguivi? All'inizio non sembrava nulla ma ora Wow È stata assorbita un sacco di energia Non è così indicativo se non fosse che Se non fosse che? L'energia è stata deviata Qui Arkem non è vuoto Cioè Crollato? Sì, lo è Da un paio d'anni Ecco la nostra amica ninja scomparsa Qui Però è lì da poche settimane Magari non sarà tanto male Oppure È una trappola È troppo brava per farsi beccare Ma abbiamo una pista Abbiamo una pista? Già Talia non era qui soltanto per giocare Deve avere altri assi nella manica Beh Allora è il momento di tornare in quel postaccio Zeppo d'amianto Ci sono altre informazioni in bacheca Obiettivi Una grande quantità di energia viene dirottata al manicomio di Arkem Indava nell'istituto abbandonato per scoprire il motivo Ok Vado a vedere la tuta se si può potenziale Eh sì Scella tuta Questa qui Anti ombre da 186 Vi ricordo ogni tanto la tuta bisogna guardarci Perché ogni tanto le tute vanno cambiate Perché cambia la potenza Vedete Questa è più forte Quindi Facciamo questa Vado a vedere Aspetta 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 No No L'attrezzatura Non ho finito Bastone Non ci sono altri bastoni Allora Vado a vedere Posso creare qualcosa La tuta da 190 Mi manca i componenti Da mischia 157 Però mi sa che il bastone 169 Ehm Abilità Nessuna Vabbè Quindi niente Ok 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 Novità Novità su Italia Per ora no Ma abbiamo hackerato tutte le telecamere della città Forse troveremo qualcosa Speriamo di Ma com'è possibile che nessuna telecamera abbia ripreso la Lega Ok 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 Va bene va bene va bene va bene va bene va bene ok Per il momento ragazzi mi fermo qui Per stasera ci fermiamo qui Con questo nuovo gameplay di Gotham Knights Vi ricordo, vi raccomando Se vi è piaciuto questo nuovo video in diretta Sul nostro canale Twitch Come sempre mi raccomando Continuate a seguirci perché ne vedremo Delle belle e ovviamente ci saranno Come sempre nuovi video in arrivo Verso il fine settimana Se non sbaglio dovrebbe uscire anche Il fine settimana dovrebbe uscire anche Il nuovo sparatutto Call of Duty Modern Warfare Quindi porteremo anche quelle sul canale Poi il 31 ottobre faremo anche Un video speciale dedicato ad Halloween Quindi vi raccomando ragazzi Continuate a seguirci No per osi sul canale A presto per un nuovo video Ciao ragazzi e alla prossima